da massimiliano camicie è tempo di saldi e di grandi occasioni massimiliano camicie in piazza della vittoria a empoli togli al volo la tua occasione questo è il mio cuore questo è il mio respiro questa è la mia casa questo è il mio sogno questa è la mia famiglia questa è la serie bwin la sfida sta per iniziare noi del Sassuolo Santiano l'undicinero verde che dipenderà dai nostri colori e prenderà l'arco difensivo con il numero uno il nostro portierone Alberto Fox Popini il nostro portiere è il nostro portiere ma l'arco è il Grazie a tutti. 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 Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Questa è la serie B-Win. È tempo di saldi e di grandi occasioni. Massimiliano Camice in Piazza della Vittoria a Empoli. Togli al volo la tua occasione.